Noi andiamo al giretto della ricarica, il sole, il sole c'è, birra la troviamo, noi partiamo, ci proviamo, ciao! Vogliamo dire qualcosa, salutare, ecco, abbiamo preso l'adesivo, il casco, il giro, siamo sulle piste di sci, tutto ok, accendere, vediamo, bellissimo, sidecar, guardate cosa sta arrivando, guardate che spettacolo, devo dire che presenza guzzista ce n'è, fortunatamente c'è, per adesso vi salutiamo, poi cerchiamo da mangiare, carichiamo il condo, carichiamo il condo, grande Peter, saluto al pubblico, data di culo, ciao! E' Uiwa! E' Uiwa! E' Uiwa! E' Uiwa! E' Uiwa! Grazie a tutti.